Allora ragazzi, guarda che vi faccio vedere, un bello l'autobelo, ecco questo dice che ci vi pigliate tante morte, ma in realtà questo coso, guarda qua, è bello che è finto, cioè, una bella foto stampata ce la mettiamo così, che bello, vedi, bello vuoto, e dentro che c'è sta? C'è sta un cazzo dentro, c'è sta un bel cavalletto che dopo se non culamo per fare i video meglio. Allora sti cazzi ti vado a dubbio, altrimenti non mi si bevono, e invece no, tiè, beccata la crepa, ecco là, tutte le fotocamere, pronte pronte a fare la mortina, tiè, ecco qua.